Buongiorno a tutti. Telefoni spenti, per favore silenzio. Come di consueto inizia il Ministro. Ho parlato con il Dottore adesso, aspettavo apposta per avere le ultime indicazioni per quanto riguarda Rüdiger, perché è quello che interessa un po' più a tutti, in base al suo risentimento muscolare che aveva avuto. Sembrerebbe tutto a posto, cioè oggi sembra possibile che lui faccia l'allenamento insieme al gruppo, per cui è rientrato tutto di quelli che erano i nostri timorieri. E Vanquer, che aveva subito questa contusione alla coscia, che sta bene. Ieri aveva un po' di dolore sul finale dell'allenamento, gli ho chiesto se voleva venire fuori, invece lui mi ha detto no, rimango dentro perché non c'ho niente. Per cui sono tutti a disposizione, è chiaro che poi c'è da svolgere l'allenamento di oggi. Iniziamo con la conferenza stampa, inizia Paesano, Roma Radio. Buongiorno mister. Buongiorno. Il Napoli usa spesso la stessa formazione, comunque utilizza sempre gli undici titolari soliti. Volevo sapere se secondo lei questo è un punto di forza del Napoli oppure un limite? Diventa difficile, diventa difficile poterlo valutare. Si è visto quando sono stati usati e loro hanno anche altri calciatori forti fuori da questi undici iniziali. e secondo me poi bisogna andare dietro l'evidenza. Cioè, se ha fatto questo campionato, ha fatto questi numeri e ha sviluppato questo gioco, ha ragione lui, ha ragione Sarri, hanno ragione loro. perché sono veramente la squadra da portare in evidenza come calcio giocato di questa stagione, come numeri, come atteggiamento, come continuità. Loro sono stati i più forti dopo la Juventus ed è giusto che siano in questa posizione. Calicchia, Roma TV La Roma domani si troverà davanti una squadra che gioca a viso aperto. Da quando è arrivato lei è successo poche volte. Influirà questo sulla formazione e cosa può cambiare? Ma io la formazione qualche volta l'ho anche cambiata. Non è che abbia fatto sempre giocare la stessa. No, noi cercheremo di mettere in campo la nostra squadra, quella che ci dà garanzie maggiori. Loro sono forti, giocano a viso aperto, però riescono ad essere equilibrati in tutte le fasi di gioco. Riescono a ricompattare bene la forza e l'aiuto alla fase difensiva e trovarsi tre, quattro calciatori che sforano dietro la tua linea difensiva quando poi cerchi di stare corto e di alzare la linea. Ecco, per cui bisognerà essere bravi. Soprattutto bisognerà essere molto continui nell'atteggiamento, compatti e continui come sono loro, perché questa è la loro forza. Angelo Mangiante, Sky Sport. Eccoci, visto che se ne parla tanto, visto che ne parlano tutti, vado diretto. A Roma-Napoli sarà la penultima partita in carriera per Totti allo Stadio Olimpico? You have to do this question to President Pallotta. You speak English better than me. You have to do to Pallotta. Io ormai ci sono entrato troppe volte in questa situazione e non ho idea di trattare argomenti come li ho trattati in precedenza perché sono stato, che a voi stanno a cuore, che a me stanno a cuore, come ho fatto in precedenza, perché sono stato tante volte troppo disponibile. Non vorrei apparire scortese, però ora a noi interessa questo obiettivo della partita. Noi siamo tutti in discussione fino alla fine di questo campionato per l'obiettivo che abbiamo davanti e che vogliamo raggiungere in tutte le maniere. Ecco, per cui si va dritto e si va avanti su quella strada. Tubaldo, il Corriere dello Sport. Buongiorno. Io volevo, sempre su questo tema così abusato, inflazionato, volevo farti aggiungere una cosa se è possibile. Allora, tu sei stato coerente dall'inizio perché da quando sei arrivato hai detto questo, e come hai ripetuto oggi anche con un buon inglese, questa è una questione che riguarda Pallotta e Totti. Ma da allenatore, dal punto di vista tecnico, visto quello che comunque ha dimostrato ancora di poter fare, anche se con tempi così ristretti, in campo, Totti, non ti senti di dire la tua dal punto di vista tecnico in una decisione che riguarda due persone su un giocatore che, se resta, sarei tu ad allenare? Guarda. Prima di tutto io sono costretto a subire una rivalità che non esiste per aver usato e messo in pratica dei principi che sono obbligatori da questo ruolo e soprattutto per quanto mi riguarda, perché sono fatto così, insomma. Questo è un discorso che dobbiamo poi affrontare a fine campionato che riguarda tutti. Io ho sempre detto, io rimango sempre della stessa idea, che io sono... I telefonini spenti, ma gli stereo si possono tenere accesi, per cui questo andava bene. Bisogna rispondere, come ho sempre detto, che io sono contento, sono molto felice se Francesco il prossimo anno rifarà la cosa che ama fare, che è contento di fare. Sarò al suo fianco in quello che sarà la sua ricerca del ruolo che deve avere il prossimo anno. Poi, e l'ho chiarito sempre, cioè mi sembra essere monotono a ridire le stesse cose, è una questione che riguarda il Presidente con Francesco, perché poi io dipendo, come tutti, bisogna dipendere dai risultati per quello che riguarda il prossimo anno, dipende dai risultati che portiamo a casa quest'anno. Noi abbiamo davanti questo straordinario risultato, possibilità di risultato in queste quattro partite e dobbiamo avere tutte le attenzioni rivolte su questo obiettivo. Pugliese, la Gazzetta dello Sport. Buongiorno, Mister. Buongiorno. Io le volevo chiedere questo. La scorsa estate, quando la gente romanista sognava il grande centravanti e si divideva un pochino tra Iguain e Gieco, domani si ritroveranno contro, a prescindere adesso dalle scelte tecnico-tattiche. Ecco, le volevo chiedere, al di là insomma che non è possibile paragonare probabilmente le tue stagioni visto la stagione straordinaria di Iguain. Ma se alla Roma avesse avuto Iguain oggi dove potrebbe essere? Ma sai, devo ritornare a fare uso di quei principi che ho dentro di me e soprattutto che si usano dal mio ruolo. Cioè, io parlo dei miei calciatori, a me i miei calciatori mi hanno dato una possibilità importantissima che nessuno avrebbe creduto probabilmente a gennaio quando sono arrivato. Di andare a giocare Roma-Napoli ed essere una partita decisiva per la qualificazione alla Champions che è un obiettivo fondamentale per la società e per i nostri tifosi. anzi devo dare merito a questa squadra di averci subito creduto fin dal primo momento che sono arrivato e che questa loro bravura non è stata sottolineata abbastanza lo debbo dire perché quando sono arrivato qui nessuno avrebbe creduto di giocarsi questa partita ad armi pari come sarà probabilmente spero per questo obiettivo che potrebbe essere anche il tentativo di se vincessimo la partita rimarrebbe ugualmente difficile però questi ragazzi qui hanno fatto dei risultati straordinari e spesso non lo abbiamo sottolineato e dal primo momento che sono arrivato loro hanno pedalato subito forte e si sono messi a disposizione da come mi hanno guardato il primo giorno io se non l'avessi creduto non sarei venuto ad allenare a Roma se avessi creduto o non avessi creduto che fosse stata una squadra forte poi loro me l'hanno fatto vedere di volta in volta che sono forti e nell'analisi della squadra dicendo loro c'è dentro anche Dzeko perché lui è un buon calciatore è un gran calciatore è un calciatore da Roma è un calciatore che probabilmente io non so non l'ho sostenuto abbastanza ma io penso che un campione così non abbia bisogno di sostegno perché come dissi l'altra volta è Dzeko insomma in allenamento ha fatto il suo dovere e magari se lo facevo giocare di più faceva numeri diversi perché poi i giocatori li devi fare anche giocare Iguain è stato straordinario ma io sono contento dell'apporto che ha dato Dzeko a questa squadra per essere qui a giocarsi in questa partita questo obiettivo importantissimo fondamentale per i nostri tifosi e per la nostra società Austini il tempo buongiorno lei dopo l'ultima partita ha ammesso la mia squadra non ha molto carattere molta personalità io per esempio non so cosa ne pensa lei carattere potrebbe essere anche un giocatore che ferma mano lasse mentre magari in transagonistica vuole tirare una punizione perché forse c'è qualcuno più bravo volevo sapere come si risolve questo problema cambiando dei giocatori insistendo su alcuni concetti prendendo degli esempi non lo so perché comunque è un'ammissione abbastanza tra virgolette grave in prospettiva futura meno male ho sorriso mentre mi grattavo la testa se no allora secondo me è un'analisi giusta quella che hai fatto una cosa che poteva anche succedere in campo ma mano lasse è uno che sa battere anche le punizioni ci può essere anche chi le batte meglio nella nostra squadra il carattere dipende un po' in generale dipende un po' da che da che formazione usi perché per esempio ci fosse stato in quel momento lì De Rossi in campo ci fosse stato Strottman ci fosse stato ci fosse stato nel senso che questi probabilmente ne hanno di più di altri che ho usato alcune volte ripensandoci non è che io l'abbia posta proprio così la risposta che ha poco carattere che ho preferito andare più sulla scelta della qualità andare a forzare più sulla scelta della qualità della nostra squadra perché sulla sull'autostima sulla sulla testa perché loro dovevano ritrovare le loro qualità tecniche attraverso la tecnica la velocità la qualità il gioco vedevo vedevo lo sbocco e la soluzione per questa squadra qui per cui ho percorso questa strada nell'andare a dare delle indicazioni e nel forzare alcune qualità della nostra squadra perché poi si è visto che quando deve venire fuori il fatto della furbata dell'episodio della della bravura nella singola situazione non si riesce a portare a casa tanto ecco per cui il gruppo la squadra la qualità il gioco non c'è un risultato che vedo che è dipeso da una furbata è sempre dipeso dalla qualità della squadra o dalla qualità dell'individuo singolo per cui continuo a forzare in questa direzione fino alla fine del campionato ecco ma carattere ce l'ha anche la mia squadra quest'altra è una qualità che ha più forte che gli si legge che è più leggibile e che può dare poi ancora molto in queste partite che mancano Val di Sera il Corriere della Sera Buongiorno mi pare che la squadra non abbia un problema di fondo tant'è che ha recuperato molte partite anche nel finale giocando forse mi sembra che sia leggermente meno brillante di un mese fa è un problema per quello che lei ha dovuto fare il lavoro che ha dovuto fare prendendola in corsa oppure no non è così ma abbiamo espresso qualcosa di meno del primo periodo insomma del primo periodo dove abbiamo fatto risultati però è sempre di peso dalle giocate abbiamo fatto qualche giocata di meno abbiamo fatto qualche intuizione di meno abbiamo fatto meno qualità a livello di squadra sotto l'aspetto della corsa non mi sembra perché poi noi li controlliamo continuamente perché come voi sapete ci sono satellitari abbiamo la possibilità di seguire ci sono satellitari abbiamo la possibilità di seguire quanti metri fa la squadra a che velocità tutti i calciatori e quando uno li prende in mano e li confronta vede che che la squadra ha avuto quasi sempre lo stesso rendimento cioè una squadra presente sotto l'aspetto della corsa una squadra presente sotto l'aspetto dei numeri che supportano insomma la condizione fisica è chiaro che bisogna vedere un po' come si corre alcune volte abbiamo corso meno bene di altre e questo ha fatto sì che qualcuno di voi come te in questo caso qui ci ponesse gli occhi ecco Parisi centro suono a sport giorno mister senta nonostante la presenza di Guain con la maglia del Napoli la Roma continua a essere il miglior attacco del campionato tutta la differenza del mondo però la fanno quei nove gol di differenza nelle reti subite il dato forse più inquietante è quello che la Roma in tutto il campionato solo sei volte è uscita con le reti inviolate e con lei solamente in due occasioni le chiedo si può iniziare a dire che è un problema di individualità più che di reparto offensivo e difensivo anche lì va sempre ad essere poi la scelta che si è fatta e anche usando qualche di un altro noi ad esempio negli esterni bassi si ha giocatori offensivi che hanno poi questa propensione ad attaccare a fare poi squadra offensiva nell'atteggiamento per cui da questo può un po' dipendere poi io non ho mai usato due mediani un po' più di contenimento ho sempre usato i centrocampisti che hanno poi caratteristiche ad andare a sforare in tre quarti ad accompagnare il gol ad andare oltre la linea difensiva io dico che globalmente assomiglia molto a quelle che sono state le scelte in generale della squadra ecco però nonostante questo si può far meglio Rosso Mando Teleradio Stereo salve mister ecco nell'ultima conferenza stampa post Roma Torino lei ha detto anche che questa è una squadra che ha bisogno di giocare sempre con l'entusiasmo ecco nell'ultima partita Totti ha portato un discreto entusiasmo con i suoi gol e le chiedo poi tra l'altro ieri ha fatto allenamento lei proprio con Francesco ha visto un entusiasmo diverso in Totti tale addirittura magari da poterle suggerire di farlo giocare anche dal primo minuto domani innanzitutto ho apprezzato moltissimo quello che è stato il suo messaggio perché ha fatto un messaggio da capitano di una squadra vero e quello per noi è importante e molto apprezzato poi ieri lui ha svolto allenamento da solo perché come in altre situazioni e quella è una mia responsabilità io posso avere un contatto diretto con i calciatori che posso concedere in dei momenti che riguardano solo la famiglia posso concedere o dispostare un allenamento come è successo in precedenza e lui aveva questo evento e mi ha chiesto questo per cui glielo ho concesso è venuto ha dato disponibilità per fare l'allenamento che hanno fatto tutti gli altri è venuto prima come è già risuccesso con un altro calciatore nella mia gestione e ha fatto tutto quello che doveva fare con attenzione con disponibilità e questi sono messaggi sono messaggi importanti lui per noi come ho già detto in precedenza è una risorsa qualsiasi ruolo qualsiasi situazione lo riguardi e noi vogliamo vederlo così vogliamo che sia così per quanto riguarda la formazione io la formazione in questo caso la dico domani per quanto riguarda tutti perché è una partita troppo importante facciamo l'ultima Valentina Lorusso RDS buongiorno Spalletti senta quando lei parla di questa rivalità che è costretto a subire è una parola forte rivalità però in effetti anche l'ambiente circostante la vive un po' così quindi la piazza eccetera si fanno dei sondaggi delle cose sembra che sia non proprio tutti dalla sua parte anzi forse propensi dalla mia parte si propende un po' dall'altra parte dal punto di vista della piazza sembra che sia non ho capito scusa se hai capito ma quando si parla della rivalità tra voi due no? la piazza sembra che propenda un pochino dall'altra parte non tanto dalla sua chiaramente questa è una domanda che riguarda l'aspetto ambientale lei la vive con indifferenza totale oppure magari un pochino le dà fastidio vorrei anche vedere lui con i numeri che ha fatto vorrei anche vedere fosse dalla mia parte è giusto così è giusto rendere merito a quelli che che sono i numeri che accompagnano questo questo campione insomma per quanto mi riguarda io a volte potrò essere sembrato anche un po' troppo rigido brusco duro come si vuol dire però io l'ho sempre fatto in funzione di quelli che sono i principi che io devo attuare poi da questo ruolo e da questa posizione e purtroppo chi è affezionato a una causa poi può perdere di vista quella che deve essere una gestione di una squadra una squadra io ho bisogno di tutti dentro la squadra di averli tutti lì dentro in un gruppo solo e quando dico di tutti dico anche di Francesco di Totti perché poi l'ultima partita ci ha dato una mano importante la penultima tutte quelle che è entrato mettendo a disposizione la sua qualità però poi io ho una gestione come ho detto prima devo far sentire per far salire si parlava prima di carattere autostima devo far crescere questa autostima negli altri calciatori devo far sentire gli altri importanti uguali ai fini del risultato si parla molto in questo momento di Ragneri il Leic era una squadra se no non avrebbe fatto risultati che ha fatto la Juventus anche se poi a noi dà un po' fastidio però è una squadra vince perché è una squadra è una squadra forti ci sono delle individualità forti ma poi è una squadra forte per cui io cerco di guardare quelli più bravi di noi e di far sentire la mia squadra forte punto e basta io non ho rivalità con nessuno io non sono qui per una questione di rivalità ma sono qui per una questione di risultati se lei mi fa fare dei risultati io la tiro dentro il nostro gruppo che cosa può fare per aiutare questo lei? si può provare ne parlo con con Sabatini e con Baldissoni grazie 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 grazie